La chiesa matrice di San Nicola in Capistrano, che è in provincia di Vibo Valencia, offre al visitatore molte sorprese. Una è questo cenobbio del Settecento di fine fattura, sul quale Sgarbi ha invitato gli studiosi a indagare. Qui si vede invece un normalissimo San Nicola. A sinistra c'è una Madonna del Rosario di un grande artista leccese, Giuseppe Manzo, che lavorava la carta pesta, finemente trattata e lavorata in modo da poter essere dura. È un'opera notevole, ma l'affresco per cui questa chiesa è conosciuta nel mondo è che ospita l'unica opera murale di Renoir, il grande impressionista francese, che qui ha raffigurato il battesimo di Gesù. Tutte le prove e le biografie attribuiscono quest'opera, riconducono quest'opera a Renoir, che in alto raffigurò anche la moglie, quell'angelo che tiene il panno. È un'opera notevole, una volta c'era quella gemella che raffigurava l'adorazione dei magi. È una chiesa molto bella, molto interessante, da visitare.